L'ho scritto perché scrivere mi piace, prima di tutto è una cosa che ho fin da quando ero bambina, io vedevo i libri nella biblioteca di casa e cercavo di acchiapparli, anche quelli piccoli dicevo chissà un giorno se riuscirò a mettere un libro qui. E dai e dai ce l'ho fatta, non so con quale risultato ma insomma le persone che amo mi danno buone speranze di aver fatto un prodotto dignitoso almeno. E comunque incontri, quando si ha la mia età si fa un consuntivo, chi ha contato molto nella tua vita, chi c'è stato che non potrai mai dimenticare, quelli sono gli incontri di cui io parlo. A questo punto viene la curiosità, qual è l'incontro più importante? L'incontro più importante della mia vita è stato l'incontro con mio padre, perché mio padre non è stato un padre normale, è stato un grande musicista, uno scopritore di Vivaldi e un educatore formidabile, perché mi ha punita severamente quando andavo punita e mi ha invece dato fiducia quando io gli ho detto voglio fare l'attrice e lui mi ha detto va bene, l'importante sarebbe che tu non fossi un'attrice ignorante, perché già l'attrice è un po' così così come lavoro, ma essere ignorante sarebbe un disastro. Mi ha fatto studiare, mi ha fatto amare lo studio e quindi è stato un incontro che ha condizionato proprio tutta la mia vita, tutta quella che sono e tutto merito di mio padre, quasi tutto merito di mio padre. Poi naturalmente ho fatto un incontro importante, quello con mio marito, mio ex marito, quello sicuramente è stato l'incontro dell'amore. Poi ho avuto dei colleghi che mi hanno indirizzata verso, cioè non più che indirizzata, il caso di Giancarlo Giannini è stato proprio l'incontro, quello ideale per una coppia che lavora e che poi in scena è anche una coppia, marito e moglie, come eravamo. Eravamo in tale sintonia che il copione, non occorreva neanche che fosse scritto, noi sapevamo che cosa dovevamo dirci, c'è stato un grandissimo incontro e anche questa sua capacità straordinaria, questa sua forza di attore mi ha insegnato anche a essere un'attrice. E poi saltando anni e anni vorrei dire che molto mi hanno insegnato alcune persone, le più umili che ho incontrato in Africa. Io ho incontrato due nonni in Africa, due anziani africani che mi hanno insegnato umiltà, coraggio, forza e che mi hanno riconosciuta poi, nel senso che mi guardavano un po' così, che cosa vuole questa donna bianca qui da noi. Loro non si aspettano molte cose dai bianchi e mi guardavano così un po' e io allora ho deciso che appiccicavo i miei occhi ai suoi. Ho detto prima o poi mi dovrai riconoscere e in effetti con questo babu ci siamo dati la mano e abbiamo firmato un contratto così, dandoci la mano. E c'è ancora qualcuno che vorrebbe incontrare? Sì, vorrei incontrare il Papa perché al di là del problema religioso, che comunque è un problema molto privato, io gli sono enormemente grata che lui abbia fatto in San Pietro quella messa con tutti i preti armeni e che abbia detto a chiare lettere che gli armeni hanno subito genocidio. Mio nonno è scappato da uno di questi genocidi, è scampato, è riuscito buttandosi su una nave che partiva da Istanbul con i piedi spappolati dal camminare e è arrivato poi a Venezia, all'isola degli armeni. Ma ne hanno uccisi un milione e mezzo ed è una cifra molto più alta. E questo Benedetto Erdogan o comunque i turchi in generale non vogliono riconoscere questo genocidio. L'ha riconosciuto il Papa, che è forse la persona più importante. E io gli vorrei dire grazie di persona, vorrei incontrarlo per questo.